I pannelli fotovoltaici prendono fuoco e il municipio viene evacuato. È successo questa mattina dove i dipendenti del comune di Torre e Belvicino sono usciti per l'incendio divampato dal sottoteto della pensilina di legno. Al lavoro due squadre dei vigili del fuoco da Vicenza e dal distaccamento di Schio. I pompieri sono accorsi anche con l'autoscala. Hanno spento le fiamme evitando l'estensione dell'incendio a tutto il materiale di coibentazione e all'impianto solare. Il municipio è stato messo in sicurezza.